Una delle domande che sicuramente ti faranno a un colloquio di lavoro per un'azienda medio-grande è la seguente Qual è il tuo punto debole? Allora, ti consiglio di evitare di dire cazzate tipo sono un perfezionista oppure dedico troppe ore al lavoro Quelli delle risorse umane infatti non sono nati ieri e ti farai quindi soltanto una figura di merda In teoria dovresti provare a essere sincero Ma se il tuo punto debole è che l'unica cosa che ti interessa nella vita è farti le canne giocare ai videogame Provo a darti un suggerimento per una risposta che evidenzia più un pregio che un difetto Ma allo stesso tempo non ti farà sembrare troppo leccaculo Allora la risposta è questa Il mio punto debole è che quando mi trovo ad affrontare un problema faccio fatica a chiedere aiuto agli altri E quindi cerco sempre di trovare una soluzione con le mie risorse anziché parlare con i miei colleghi Oppure potresti dire col mio team se si tratta di una posizione manageriale E poi potresti concludere così Sono però conscio di questo mio punto debole e sto cercando di migliorare Bene, questo video termina qui Se ti va fammi sapere cosa ne pensi Grazie mille per l'attenzione Alla prossima Alla prossima